Il bilancio del progetto Doppout è sicuramente molto positivo. Abbiamo coinvolto circa 400 ragazzi di 7 paesi diversi, abbiamo coinvolto nuove associazioni e nuovi partner che hanno condiviso con noi le strategie e le metodologie della WISP nazionale. I risultati di efficacia in termini di metodologia sono molto buoni e cerchiamo e speriamo di poter confermare e riprodurre, se non riadattare questo progetto, in nuovi contesti e in nuovi paesi.